Si avvicina sempre di più l'inizio della stagione per l'Olimpica Avellino. La squadra, allenata da coach Domenico Amodeo, inizierà il ritiro quest'oggi presso il Country Sport di Picarelli. Due settimane di allenamenti intensi in palestra e piscina, oltre, ovviamente, a sedute dedicate esclusivamente alla tecnica. Il roster è stato praticamente allestito, confermati gli elementi della passata stagione, che sono giovani e sicuramente dovranno abituarsi, ai primi tempi, all'impatto con un campionato di categoria superiore, ma sui quali la società punta molto. Inoltre, il direttore sportivo Paolo Malanga ha chiuso per tre acquisti un palleggiatore, un centrale e uno schiacciatore, che verranno ufficializzati nelle prossime ore. Per giovedì della prossima settimana, infine, la conferenza di presentazione della squadra, nella quale verranno presentati anche i tre nuovi elementi della rosa. Lo start del campionato è fissato per il 19 ottobre, una stagione intensa con tante compagini di livello, soprattutto alcune pugliesi. La squadra irpina punterà almeno inizialmente alla salvezza, con la speranza, successivamente, di un piazzamento anche leggermente più in alto in classifica.